...tagliare la testa, la volta e per sempre, a questo ormai insopportabile fenomeno delle tuffe a una compagnia di astrazione, in specie della RCA. E quindi tutto questo danneggia maggiormente la campagna del Mezzogiorno Italia, perché più giù i fenomeni sono più diffusi, diciamocela tutta. Allora deve servire anche a portare costumi nuovi, veramente bisogna cercare di cambiare soprattutto la campagna e soprattutto nella mentalità, questo modo di fare un po' ciottone che dobbiamo cercare veramente di isolare sempre di più. Quindi il nostro deve essere soprattutto uno spunto e uno sforzo che dobbiamo fare per cercare di far risolverare il nostro gestimo sociale. Anche da quell'apatia, o meglio, con cui si fa tutto ormai tutto il messo, tutto il seguito. Invece con questa agenziale di frode, secondo me, si comincia...